ciao a tutti da out of beat da toni sauffa oggi andiamo a recensire la magix rom per lg g2 di 802 ovviamente versione chi chi tecat allora ragazzi mettetevi comodi perché c'è molto da vedere cercherò di andare veloce su alcuni aspetti e di soffermarmi su altre perché c'è veramente veramente tanta carne al fuoco allora andiamo velocemente a vedere le informazioni del telefono ok scusatemi come vi dicevo android 4.4.2 come kernel ho messo il bruce poi vi spiegherò il perché la roma e il numero build è magix rom sword blaster versione 4 xe ovviamente su firmware 20d ok andiamo subito velocemente ovviamente qui ho messo il launcher nuova quindi non prendetelo per buono andiamo a vedere subito un attimino le caratteristiche di questa roma sul nostro forum sull'android club forum trovate il 3d specifico oltre che su xd a ok la magix rom al firmware stock lg 20d a magix rom control che andremo a vedere kernel dark nel specifico proprio per questa roma ne parleremo lg g3 launcher la tastiera del g3 widget g3 stock 50 e 100 per cento x transparent anticipo è questa qui insomma vedete un attimino le personalizzazioni della barra ok ma lo andiamo a vedere la possibilità di combinare i tasti del g pro 2 i toggle del g2 pro quindi volume e luminosità sempre gli diamo un'occhiata velocemente a questo caso se non sbaglio a meno che ok perfetto ritroviamo qui ritorniamo nuovo pannello delle notifiche g3 blu che è questo che avete appena visto network change 2g 3g automatico c'è un'app specifica implementata nella rom che andremo a vedere personalizzazione del background color colori cazzi e mazzi che andremo sempre a vedere camera da bad x da debb x da bebb ogni volta non riesco a dire precisamente quindi la camera montata root busibox recovery zip allignata deodex vari twix i soft key ridotti 36 dpi e il modulo x post ok questo per quanto riguarda diciamo smart bulletin questi sono degli screen che ho fatto nel momento in flashato la rom quindi tutto quello che vedete adesso è come si presenta la rom appena flashata smart bulletin e quindi lg health se non sbaglio credo che sia questo non lo so questa è la home e le app che si presentano questi soft key app quindi molto molto basica sono trasparenti sia navbar che barra delle notifiche questa è la fotocamera vado velocemente la fotocamera è quella modificata ma non ha il 4k cioè il full hd ma non ha l'ultra hd e lo slow motion ok andiamo avanti i toggles che vi dicevo luminosità e volume go on google app le app che troverete che adesso andremo a vedere quelle la specifiche altre applicazioni quindi come vedete non è molto slim ma è molto corposa ne parleremo i widget vedete questi widget particolari sono quelli modificati da lui ci sarà una schermata i temi effetto scorrimento schermo andiamo avanti smart bulletin quello che vi dicevo blocco schermo le personalizzazioni il seleziona il tipo di blocco schermo questi sono quelli che abbiamo questa è una schermata che ho cambiato messo lo sfondo del g3 è la il widget medio la radio funzionante ok adesso entriamo nel vivo x plus tools lo andremo a vedere permette di personalizzare tutta la rom senza aver bisogno di g2 oggi tretto xbox gravity box e puttana le varie molto bello molto bello il progetto ancora x bus tools lo andremo a vedere x bus tools questo è la questa è l'app che permette di switchare in automatico in base allo schermo 2g 3g e quindi il passaggio e risparmiare batteria questo widget software software 2g 3g 4g switcher collegato si scarica a parte expose installer come vi dicevo poi abbiamo la magics rom settings lo andremo a vedere che è integrato già nel menu queste sono caratteristiche specifiche quello che dici vi dicevo c'è magic magics rom store blaster controllo rom che ci permette di personalizzare vari componenti della rom a vari livelli il tipo di carattere che ci sono la tastiera del g3 le dimensioni c'è questo bug praticamente di come viene visualizzato la combinazione dei tasti del g pro 2 poi abbiamo la personalizzazione della tendina che ho fatto vedere digital pen settings come al solito non me ne ho fatto un cazzo ho lo timer per personalizzare le varie applicazioni con il tema della oro il kernel ve lo faccio vedere qui perché ho poi installato praticamente ho installato vari tipi di kernel vi spiegherò perché questo è un kernel il dark nel kernel molto estremamente personalizzabile cioè ha una sfilsa di funzioni incredibili adesso vi faccio vedere soltanto alcuni parametri quindi il tcp lo scheduler il controllo io blocco di frequenza le varie frequenze aver coltato 2 giga e 5 i vari tipi di scheduler la frequenze che vi dicevo massime i tipi di governore c'è un casino di roba guardate quanti governore che ci sono un casino proprio questa rom è veramente zozza è veramente zozza non vedevo una rom così zozza dai tempi della rei globe ma in senso positivo altre caratteristiche del kernel vedete praticamente non si sono risparmiati i ragazzi ma proprio niente il lock screen il menù di riavvio avanzato e ne spagnola e ne spagnola e spagnole spagnoleggiante infatti zozza ora spagnoleggiante ovvio un binomio più che giusto lo split view split window split view come cazzo lo volete chiamare il voicemail non funziona in italiano non funzionava anche in inglese comunque non funziona l'autonomia del telefono capito l'autonomia bocciatissima questa rom ma vediamo se c'è altro che ho finito così andiamo a vedere la roba specifica di questa rom allora capitolo performance è capitolo durata batteria le performance la rom non è fluidissima perché ha molta roba dentro ha troppa roba o meglio non è troppa roba molta roba dentro e quindi per ottimizzarla secondo me ci vuole ancora un po di tempo però se cercate una rom come posso dire estremamente personalizzabile con un sacco di twix tools e cazzi e mazzi questa è la rom che fa per voi o comunque la potete provare perché veramente ne vale la pena tutto questo ne risente la fluidità è la stabilità più volte anche prima di fare questa recensione ed è probabile che succeda anche durante questa recensione la rom si è piantata e ho dovuto riavviare tenendo premuto il tasto di accensione ho cambiato vari kernel il clodifat il bruce il dorimax ma alla fine diciamo che è ancora da ottimizzare ok andiamo a vedere nello specifico in questo caso per vederlo per bene mi devo connettere perché perché c'è bisogno della connessione c'è bisogno della connessione internet ok io vaffanculo non puoi fare un cazzo per me mi sa che allora vediamo se ho riavito la connessione perfetto andiamo a vedere subito queste applicazioni specifiche che sono XORware 2G 3G switcher è quello che vi ho fatto vedere praticamente è il widget questo questo XOR qui praticamente impostate che cazzo deve fare il telefono quando viene spento lo schermo dopo quanto tempo quindi il passaggio 2G 3G interrompere la eh sincronizzazione oppure impostare la sincronizzazione a che livello della batteria farlo partire ci sono tutta una serie di eh impostazioni molto utili e molto molto carine eh andrei a vedere Magix ROM control che si accede anche tramite le impostazioni praticamente qui abbiamo dei collegamenti veloci a ehm a su come personalizzare la ROM quindi oltre ai vari moduli andiamo direttamente qui ehm gli aggiornamenti ehm è possibile scaricarli via OTA over the air e qui ci sono tutta una serie di mh impostazioni che è possibile scaricare io ad esempio ho scaricato l'aggiornamento di Magix ROM control Magix ROM split view l'update del kernel ehm eventualmente tutta la ROM si può scaricare se venite se venivate da una versione precedente e varie cosine che loro mettono qui poi abbiamo i download che tira che cazzo è scaricato vedete qui qui c'è la cucina e potete personalizzare tutto quello che volete la status bar ad esempio la volete modificare volete mettere quella di ehm di Apple qui in questo caso vi compare la scaricate e poi la flashate ehm vi fa vedere anche un'anteprima di quella che è ehm di quello che sarà il risultato finale adesso la mia connessione è un po' farlocca però diciamo che ehm ehm svolge appieno il suo dovere e abbiamo tutta una serie di ehm impostazioni vedete la possibilità di eh personalizzare wall paper, widget, status bar, suono, ehm ristorare, ripristinare quello che abbiamo modificato, notification panel, lock screen, launcher, kernel, icone, contact, cazzi e mazzi veramente molta roba anche la possibilità di scaricare wall paper sicuramente questi sono i più belli in assoluto ma proprio per una qualità grafica e uno sviluppo veramente eccezionale cioè proprio eccezionale qui c'è veramente veramente fatto bene questi wall paper sono fatti si vede con photoshop in modo molto molto fine e raffinato se carica altrimenti andiamo avanti perché non possiamo aspettare non carica andiamo avanti poi abbiamo i settings quindi come vogliamo che ehm quest'app generale funzioni il change log ed è fatto questa è la prima vera chicca di questa di questa di questa di questa rom veramente complimenti agli sviluppo allo sviluppatore e a tutti coloro che ci hanno collaborato perché veramente c'è tanta roba è veramente fatta bene xblaster tools andiamo qui e qui proprio c'è da mettersi le mani nei capelli considerate che ci ho messo un due o tre giorni soltanto per vedere tutte le opzioni ed è veramente tanta roba veramente veramente tanta roba che c'è io nel frattempo mi metto in modalità offline però ah ok è partita cazzo e quando è partita è spento xblast tools allora facciamolo ricaricare qui praticamente si può personalizzare tutta la rom proprio veramente tutta la rom andrò ehm molto veloce però vi farò vedere quelle che che ho trovato essere eh le le opzioni più importanti barra di stato qui l'andate a personalizzare pannello delle notifiche lo stesso certo sono opzioni che possiamo trovare anche in altri moduli xpost però alla fine va bene così qui mi sa che avevo trovato delle opzioni fighe no ok non erano queste comunque notification pic quic tweak tweak visivi quindi effetto effetto sperimento pannello recenti o lo team tastiera notifiche toast notifiche toast pannello impostazioni veloci con oil but an animation personalizzata c'è tanta roba xvisivi già l'avevamo visto xloki xloki per il pan il lock screen per personalizzare il lock screen vedete quanta roba c'è nucazina multitasking questo è bello veramente bello vedete qui abilitando questo possiamo impostare una barra laterale circolare certo sono sono app che possiamo trovare da un'altra parte però averle incluse in questa roma già all'interno della roma è una bella cosa vedete quest'altra anche qui laterale se la riesco ad abilitare oh vaffanculo ragazzi non si dicono pallonaccio allora praticamente non la riesco ad abilitare però praticamente qui a destra scegliete l'app salviamo e ce l'abbiamo impostata ok adesso dovremmo ah perfetto ok avete visto ok scusatemi adesso non riesco a farla funzionare precisamente però è molto figa anche questa gesture anyway quindi potete impostare le gesture su tutto lo schermo allora eh pulsazioni led qui lo potete personalizzare quiet hours driving mode anche qui che cosa fare durante la guida che cosa fare durante la guida twix telefono identicons sperimentale qua ti fa vedere le le immagini delle persone salvate dei contatti salvati nella rubrica in modo tutto strano lagazzato extreme come personalizzare daydream daydream loc operatore impostazione sfumatura questa è l'impostazione sfumatura twix twix pulsanti volume e qui ancora roba da personalizzare varie ed eventuali che ci stanno sempre come le assemblee che facevamo a scuola riavvio e riavvio soft qua non riavviamo un cacchio about e sono tutte le cose allora vi ho fatto vedere tutto quindi vi dico che la rom sicuramente merita un giretto il mio giudizio finale devo distinguerlo per forza in due parti allora da una parte il progetto dello sviluppatore il progetto modding mi piace molto cioè sono queste le rom che vanno fatte abbiamo bisogno secondo me nel 3D del G2 quindi nella sezione G2 di sviluppatori che osino a costo anche di compromettere la stabilità del sistema riavvii e tutte le varie situazioni perché questo è vero sviluppo non fare una rom stock cambiare due o tre impostazioni secondo me questo è vero sviluppo quindi dal punto di vista di progetto e di impostazione della rom per me è un 9 quando ottimizzeranno tutto questa rom sarà da 10 per quanto riguarda invece le prestazioni do un 5,5 perché comunque la rom non è stabile si riavvia e non è stabile quindi un 5,5-6 tendente in futuro a qualcosa di più positivo la durata della batteria è intorno alle 3 ore quindi è ancora da rivedere vi saluto e vi ringrazio se avete rom da suggerirmi fatemelo sapere e provvederò a vedere dopo questa flasherò la Sotmax quindi ciao ragazzi fate i bravi veniteci a trovare sul forum e non rompete le scatole su come faccio o non faccio le video recensioni faccio di bravi ciao a gli u ciao a tutti